Opa mio, io la carino io mi avevo il panno e tu non ti scordi lo scambio a più l'emmo, a più a più oltre con la pizza e con la pomeriggio. E a due mani quando posso portare a coccino un pasto di panno e non ci stai lo tarano scalato con l'uffo nocchio. E a due mani quando posso portare a coccino un panno e non ci stai lo scambio. Aspetta un momento che non mi controlla non ci mangiare a breve. Ahè, la pagina è chi? Aspetta tutta la pagina per coccere la roba. Quanta pagina strazzata che non ci sono. Soccino, fu tutto la settimana. Ma aspetta, aspetta, un panno che è venuto in meno perché è recuperato la flessa là sopra che è caduta per le scale e ha fatto parecchi capatum. Sei tutta una tondata e sicuramente l'hanno passato come una creatura. Poi poi lì, sai che devo fare? Ria a mamma che non mi giuri a giornalare la roba. Allo posto in compagno che è. Vabbè, ciao. Mamma, c'è stamattina? Do me, era parecchio che non dovevo ne attuare. Ma è arrivato il momento che mai è sempre. Sì, hanno, l'ora metto, ma vabbè mannato su stocco e lo pezzo. E che volessi fare? Vuolessi fare un nuovo sito perché ha già c'è uno sposarizzo. E che sposo? Sposo? La vita cilena e la roba non sta al par. Perché? A te non la rubatà. No, non mi ha arrivato necceno il dito. Vengenzi, la roba mi pare un po' per tenare. Ma stupezza. Sai che facciamo, già attaccando il giro? Un bello pulletto, le tamatte e il brusomano. Vengenziate proprio il po'. Ecco sì, posso sciare il fustino, senza spengono soldi, che non lo temi. Allora, mo ci pigliamo su. Atteno, grazie. Qua vai tu? Sì. Qua vai tu? Se io non parlo, io lo prendo i giocni su noi. Sa te buono, ci puoi? Ma non parlo, io lo vengo. Buongiorno Massimo a te! Buongiorno, come vien da te porto? Ma va mai andato tanto che ho mai avuto il palo di scarpe? Che ho avuto niente e non parto così colicchi su colicchi? No, io non credo di sapere perché mi vanno giù. Ah, che bello te! A casa, a scontare, mi sono andato in alto e mi sono andato in alto No, non studa! Stada!